Un saluto a tutti gli appassionati del cane da seguita e della caccia alla lepre in montagna. Vi do una bellissima notizia che farà piacere a tutti gli appassionati segugisti. Dopo anni di riprese in montagna, in alta montagna con i miei segugi, sono riuscito a produrre una nuova serie di film documentari inedita che possono essere visti di senza avere un abbonamento sul vostro computer, tablet, cellulare o televisore, purché ci sia il collegamento a internet. Si tratta di vere giornate di caccia con i miei cani e con le mie doppiette nei più bei territori dell'Italia centrale. Vi porterò sulle montagne abruzzesi, veri paradisi del segugio e della caccia alla lepre, con veri abbattimenti, con riprese aeree fatte col drone spettacolari. Assisterete ad accostamenti su praterie montane, scovi a vista su pareti rocciose, inseguimenti fino alla cima delle montagne e poi degli abbattimenti di lepri maestose, lepri selvagge. E tutto questo ripreso dall'alto, da prospettive aeree che sono un'unità assoluta per questo tipo di video. E' semplicissimo per scaricare, basta cliccare il link sotto riportato, quella scritta azzurra. Vi porterà direttamente al film, leggete la descrizione. Leggete il prezzo, parliamo di 3-4 euro, quindi un prezzo puramente simbolico che ha senso di finanziare la produzione e il funzionamento della piattaforma. Acquistate, si può pagare o con Paypal o con carta di credito. Potrete accedere al video e lo potrete scaricare nella vostra libreria. Voi lo avrete a disposizione per un mese, lo potrete vedere tutte le volte che vorrete avendolo pagato una sola volta. Realizzerete il sogno di ogni segugista, quello di poter volare inseguendo una seguita incalzante. Non mi resta che augurarvi buona visione e collegatevi subito al link qui sotto. Ciao e a presto. Ciao e a presto. Ciao e a presto. Ciao e a presto.